ciao da luci oggi come avete visto le foto di anteprima andremo a fare la mia borsa odry questa è stata la mia prima borsa voi sapete che ho fatto dei portamonete delle clutch insomma però una borsa grande non l'avevo mai fatta e devo dire la verità mi sono cimentata da subito con una borsa che diciamo è un po' impegnativa però vi assicuro e vi rassicuro che è molto facile da fare come vedete ha un bel fondo rettangolare è interamente lavorato ad uncinetto quindi non ha fondo di pelle l'unico inserto extra ecco alla lavorazione è proprio questa chiusura clic clac che come potete vedere ha un bellissimo manico di legno all'interno la mia borsa che non è ancora foderata proprio per permettervi di farvi vedere bene come è realizzata la borsa è per metà con la rete infatti questa borsa è completamente rigida a parte ovviamente questa parte vedete la rete l'ho messa solo fino a un certo punto perché ovviamente questa parte doveva essere abbastanza morbida da permettere alla chiusura clic clac di poterla piegare per chiudersi quindi ovviamente è parzialmente rigida quindi vedete fino a una certa altezza è rigida dopodiché rimane un po' più morbidina diciamo non tanto perché comunque il cordino sapete che già ha una sua rigidità l'ho fatta leggermente più grande vedete che ho fatto un pochino di soffietto per poter permettere alla borsa di chiudere più agevolmente vedete che qua c'è un pochino di soffietto rende la cosa anche un po' più facile perché se anche doveste sbagliare di poco le misure del fondo comunque non andrà a rovinare il risultato finale perché comunque abbiamo bisogno di un pochino di soffietto io l'ho fatto di proposito però se per caso volete farlo preciso e vi avanza il pezzettino sappiate che la borsa si realizza tranquillamente lo stesso quindi questa è la mia borsa Audrey io spero che vi piaccia è abbastanza grande come potete vedere ma adesso vi darò anche tutte le misure e vi dico anche con quali materiali l'abbiamo realizzata per realizzare la mia Audrey ho usato del cordino macramé cord di ice questo è il color tortora molto molto bello e lucido e ho usato un filo in contrasto in questo caso io ho usato del cordino nero che è quello che ho usato per fare i nostri tre giri a pedpull e poi ho usato anche, ho fatto gli ultimi tre, quattro giri di colore nero voi potete usare un qualsiasi colore in contrasto a quello che sceglierete uncinetto numero tre, taglia fili del filo di nylon per cucire la clic clac alla nostra borsa della rete per borse io ho usato quella da 0,5 mm vi servirà, ve ne servirà un po' non tantissima ma un pochino degli aghi per cucire ovviamente la clic clac con il nostro filo di nylon e una chiusura ovviamente per la nostra borsa questa è molto molto grande poi vi darò anche le misure, vi lascerò in descrizione tutte le misure in questo video non parlerò di misure, parlerò di metodo di realizzazione perché se voi vorreste, voleste, scusatemi, perdonatemi se voi voleste usare un altro manico ma realizzare la stessa borsa per esempio potreste tranquillamente perché avete la procedura e potete tranquillamente adattare le misure io sapete che non amo fare lavori grandi davanti alla videocamera quindi oggi vi farò vedere una versione piccola infatti mi sono munita di chiusura rettangolare proprio come la borsa vi farò vedere esattamente come si fa la borsa però ve la faccio versione porta monete quindi ve la faccio più piccola dandovi le misure però della borsa quindi ve la faccio in piccolo dandovi le misure sia per fare in coordinato la piccola clutch in coordinato con la mia borsa sia le misure della borsa vera e propria quindi voi potete tranquillamente farle entrambi quindi passiamo direttamente al tutorial per iniziare ho avviato 40 catenelle per il portamonete ne ho avviati solo 18 quindi voi sapete che per la borsa con uncinetto numero 3 e macrame cord ho avviato 40 catenelle quindi adesso faccio una catenella aggiuntiva ed inizio a fare le mie maglie basse una maglia bassa su ogni catenella ovviamente saltando la prima perché è la catenella che ci serve semplicemente per alzare il lavoro quindi vado a fare tutto il mio giro di maglie basse arrivati in fondo al giro faccio una catenella volto il lavoro e non faccio altro che ricominciare a fare giri di maglie basse quindi per la mia borsa io ho fatto 25 giri di maglie basse prima di effettuare il perimetro mentre per il mio per la mia clutch quindi per il portamonete grande per intenderci io ne ho fatti 10 quindi per la borsa 25 giri per il portamonete 10 fatti i nostri 25 giri per la borsa e 10 per la clutch io prendo un pezzo di rete e come vedete vado ad appoggiare il mio fondo sulla rete andrò a ritagliare la rete della misura precisa del mio fondo allora in questo caso appoggio vedo che questa è la misura allora qui lo faccio con voi così lo vediamo insieme allora la appoggio in questo modo così mi raccomando piuttosto tenetela un pelino più larga ma non più stretta perché sennò poi vi arriccia quindi io so che devo tagliare qui è il primo ecco qui adesso lo faccio con questo ma poi lo taglierò con la forbice e qui ecco qua ora con la mia forbice andrò a tagliare il pezzettino corrispondente al nostro fondo ecco qua vedete il mio pezzo di rete è della giusta misura del mio fondo ora andiamo a fare il perimetro in questo modo prendo il mio fondo rinfilo l'uncinetto e vado a creare un giro al mio fondo inglobando anche la rete vedete quindi vado a lavorare normalmente quindi faccio la prima catenella per alzarmi dopodiché entro nel primo punto prendendo anche vedete il quadratino della rete tiro fuori il filo normalmente come una qualsiasi maglia bassa e vado a concluderla entro nel quadratino a fianco e quindi nel punto a fianco e faccio la maglia bassa quindi per ogni maglia vado a prendere insieme anche un quadratino della rete in questo modo quindi vado praticamente ad attaccare la mia rete al fondo in questo modo nel caso della rete da 0,5 mm col mio uncinetto e col mio cordino ogni punto corrisponde ad un foro della rete nel caso voi abbiate una rete più grande potete fare due punti in ogni foro della rete diciamo che a me rimane della misura giusta ma non siete obbligati se non trovate la rete da 0,5 mm potete usare anche quella col foro un po' più grande l'unica cosa che dovrete adattare diciamo la misura del punto ecco qua sono quasi arrivata in fondo al mio giro il perimetro verrà fatto esattamente come per i portamonete quindi avevo fatto un video in precedenza del portamonete e quindi il perimetro si fa nello stesso modo ecco qua sto andando a lavorare l'ultimo punto vedete prendendo anche l'angolino della rete entro una catenella rientro nello stesso punto girando il mio fondo quindi ora andrò a lavorare dieci quindi il primo l'ho già lavorato dieci punti lateralmente quindi uno su ogni maglia e abbiamo i rispettivi forellini quindi non possiamo sbagliare quindi sono a tre quattro cinque sei ecco qua otto nove ecco che entro nella decima mi raccomando prendendo anche la rete quindi vedete che stiamo andando attaccare la rete vedete al nostro fondo ora facciamo la catenella e procediamo nello stesso modo quindi andremo a fare ogni maglia attaccata anche alla rete in questo modo quindi andiamo ad attaccarla ci vediamo quando l'ho però attaccata tutta arrivata in fondo al giro quindi entro nell'ultima maglia mi rimane un po' più dura ma ecco qua faccio la catenella e mi congiungo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa lavorata d'inizio questo è quello che avremo al termine del nostro giro vado a tagliare la codina tanto l'ho presa dentro vedete abbiamo irrigidito il nostro fondo ora facciamo tutto un giro di maglia bassa quindi facciamo una catenella e facciamo tutto un giro di maglia bassa preso in cossa retro quindi prendendo soltanto il filo dietro della catenella quindi entriamo in questo modo quindi prendendo solo la parte esterna della catenella facciamo tutto un giro di maglie basse senza fare più aumenti quindi lavoreremo anche sulle catenelle che abbiamo fatto negli angoli ma senza fare più aumenti quindi lavoriamo solo quella senza aumentare nient'altro quindi facciamo tutto un giro in cossa retro di perimetro quindi arrivati all'ultima maglia sempre lavorata in cossa retro io non faccio altro che invece di chiudere in questo modo con una maglia bassissima entro sì qui ma proseguo prendendo tutta la maglia appunto con la maglia bassa e quindi inizio la mia lavorazione a spirale quindi vado avanti a lavorare a spirale per l'altezza che mi serve prima della greca adesso vi dico in centimetri e in giri quanti ne ho fatti quindi per la mia borsa io sono salita di 10 centimetri cioè 18 giri lavorati a spirale prima del cambio di lavorazione ora proseguo anche col mio campione con la mia clutch piccolina e vi dico nel caso voi vogliate fare la clutch quanti giri ho fatto sicuramente non ne farò tantissimi perché dobbiamo poi avere il tempo di cambiare la lavorazione e mettere la rete quindi vi lascio ribadendo per la borsa sono salita lavorando a spirale a maglia basta per 10 centimetri cioè 28 giri per il portamonete in questo caso portamonete grande quindi per la clutch ve lo dico appena li avrò effettuati allora nella borsa arrivati a 18 giri cioè 10 centimetri facciamo il cambio colore mentre nella portamonete io ho fatto semplicemente 4 giri mi porto sul laterale sia della borsa che del portamonete e concludo con facendo 2 maglie bassissime nelle maglie seguenti dove voglio fermarmi io più o meno al centro giro il filo taglio e vado a estrarlo e lasciarlo tranquillamente libero qua lo andrò a nascondere poi nel cambio filo prendo il filato in contrasto faccio il mio anellino e mi vado a infilare almeno 3 2 3 maglie prima delle maglie bassissime fatte sul lato quindi mi infilo ecco qua facciamo 2 maglie prima infilo il mio anellino sull'uncinetto stringo un attimino scusate perché sto facendo ecco è di fatica ecco qua lo stringo me lo porto all'esterno in questo modo catenella e entrando sempre nella stessa scusate sposto il gomitolo entrando sempre nella stessa maglia vado a farmi la prima maglia bassa in questo modo parto con una maglia bassa ora la prossima carico il filo e vado a fare una maglia alta quindi alterneremo una maglia bassa e una maglia alta nella prossima vado a farmi una maglia bassa intanto ci nascondiamo il filo che abbiamo come si dice cambiato stringiamolo bene di modo da non avere difetti stringiamo bene il filo principale così e adesso andiamo a nasconderci la codina nella lavorazione quindi ho fatto la maglia bassa ora carico il filo nella prossima faccio una maglia alta nella successiva di nuovo maglia bassa in quella dopo carico il filo e faccio la maglia alta di nuovo di nuovo maglia bassa di nuovo carico maglia alta quindi proseguo così per tutto il giro alternando una maglia bassa ad una maglia alta arrivata a fine giro vedete io concludo con una maglia bassa poi faccio la maglia alta e con una maglia bassissima entro nella prima maglia bassa in questo modo prendo scusate perché l'ho perso eccolo qua il filo principale ed esco da quella maglia bassissima con già il filo nuovo sull'uncinetto in questo modo ora siamo su una maglia bassa dobbiamo fare una maglia alta perché ora dove avremo lavorato le maglie basse lavoreremo le maglie alte e viceversa quindi qua vado a fare 3 catenelle in questo modo stringiamo tiriamo bene i fili dietro per fare in modo che insomma non faccia poi il difetto del colore andiamo a prendere la nostra codina dentro e quindi qui abbiamo fatto sulla maglia bassa abbiamo lavorato le 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta sulla maglia alta sottostante che sarà la seconda maglia che incontriamo andiamo a fare una maglia bassa sulla prossima che è una maglia bassa sottostante ci andiamo a lavorare una maglia alta quindi su ogni maglia bassa lavoreremo una maglia alta su ogni maglia alta lavoreremo una maglia bassa quindi proprio in questo modo è facilissimo ecco qua scusate è talmente facile che ho sbagliato allora sono qua la maglia alta quindi facciamo la maglia bassa parlando può capitare di confonderci quindi la maglia alta e così via quindi proseguite alternando maglia bassa su maglia alta e maglia alta su maglia bassa per tutto il giro a fine giro come giusto che sia chiuderemo con una maglia bassa quindi sull'ultima maglia da lavorare e poi entreremo sulla terza catenella d'inizio che col cordino è un po' difficile da vedere mi raccomando prendetela bene allora mettiamoci bene perché sennò ecco qua e la maglia bassissima la faremo prendendo direttamente il nostro filo a contrasto in questo modo perché adesso faremo una catenella rientriamo in quella stessa e facciamo la prima maglia bassa dopodiché carichiamo e sulla maglia quindi sottostante andiamo a fare la nostra maglia alta dopodiché una maglia bassa e di nuovo una maglia alta quindi andiamo avanti ad alternare come fatto fino adesso ma col colore a contrasto arrivato a questo punto io come vedete ho fatto un giro a contrasto un giro del colore originale della borsa e un giro a contrasto nella mia borsa originale invece se vedete io di giri neri ne ho fatti tre prima di ricominciare normalmente la lavorazione a maglia bassa a spirale ovviamente io nel portamonete ora mi fermerò solo a due giri altrimenti il pad pull diventerebbe un po' troppo invadente quindi che cosa faccio fatta l'ultima maglia alta perché ovviamente avendo iniziato con la maglia bassa finiamo con la maglia alta entro appunto sopra la prima maglia bassa riprendo il mio filo originale quindi quello con cui vogliamo fare il colore principale primario della borsa e cosa faccio vado a tagliare il mio filo ecco qua a contrasto in questo modo ora lo andrò a nascondere nella lavorazione andrò a nascondere la codina nella lavorazione quindi faccio la mia catenella stringo bene per fare star sotto bene il filo e da adesso in avanti ricomincio a lavorare a spirale in questo modo quindi nascondiamo la codina così non dobbiamo poi prendere l'ago per diciamo nasconderla perché la stiamo già nascondendo e ricomincio a lavorare a spirale quindi senza più avere né inizio né fine quando poi arriverò da questo lato ricomincerò a lavorare diciamo senza fare la catenella ad avvio e la maglia bassissima per congiungere ma come fatto all'inizio quindi lavorando in continuo fino all'altezza dove poi metteremo la nostra rete ora io vado avanti un pezzettino da sola e dopo vi dico sia nella borsa che nella clutch a che altezza ho messo la nostra rete sia nella borsa che nella clutch io dopo la mia greca diciamo quindi dopo la mia fantasia a pedpull ho fatto semplicemente due giri quindi sia nella borsa che nella clutch guardate come rimane bella rigida anche questa ora andremo ad attaccare la rete come facciamo allora noi prendiamo possiamo o abbiamo due possibilità o misuriamo proprio col centimetro ecco qua mi è caduto il centimetro o misuriamo proprio col centimetro la circonferenza circa del nostro fondo in questo caso io ho un 32 taglierò la rete di 33 34 centimetri faccio in modo che si sovrapponga stessa cosa farò per il fondo della borsa quindi adesso le misure potrei tranquillamente darvele ma comunque sono relative sono relative perché poi dipende dalla vostra mano da quanto avete fatto il fondo comunque ecco qua facciamo relativamente andrò a tagliare anche per il fondo della borsa un 38 centimetri di rete ecco per l'altezza che voi avete raggiunto quindi in questo caso io nella mia borsa ho raggiunto un'altezza di 16 centimetri mentre nella clutch ho raggiunto un'altezza di 5 centimetri quindi andrò a fare 5 centimetri per la circonferenza e taglierò la mia strisciolina ecco qua allora tagliata la nostra striscetta non facciamo altro che insomma arrotolarla e infilarla all'interno del nostro della nostra claccia o della nostra borsa vedete ci sarà una parte che si sovrappone io la lascio magari la diminuisco un po' ecco la porzione in modo da scusate allora così diminuisco la porzione un pochino ecco taglio magari questo pezzettino per non avere tanta sovrapposizione e vado a inserirla in questo modo facendo facendola aderire bene per essere sicura insomma di avere rete sufficiente ecco qua ora facciamo come per il fondo quindi rinfiliamo il nostro uncinetto ecco qua e mentre lavoriamo prendiamo anche la rete ripeto se avete la 0,5 millimetri ogni forellino sarà un foro della rete ogni forellino della rete sarà un punto se avete quella da un centimetro invece sarà due punti per ogni forellino della rete quindi ora giro tutto attorno inglobando la mia rete preso anche l'ultimo punto della rete vedete questo è quello che avremo al termine di questo giro quindi avremo affrancato vedete la rete alla nostra borsa la parte bassa della rete io vi consiglio di successivamente dare qualche punto con il filo di nylon giusto per tenerla ferma in realtà io in quella grande vedete non l'ho assolutamente affrancata perché va diciamo intersecarsi con quella che c'è sotto quindi comunque rimane ferma però per maggiore sicurezza se volete potete dare comunque dei punti qui sotto alla base della rete prendendo la rete e la vostra borsa per fermare appunto la base della rete arrivati a questo punto noi andremo avanti a lavorare a spirale per l'altezza della nostra chiusura vi spiego subito che cosa intendo in questo caso vi faccio vedere questa chiusura piccola perché la grande è già affrancata alla borsa a noi interessa questa altezza perché sarà quella che deve piegare quindi da questo momento abbiamo affrancato la nostra rete dobbiamo andare a lavorare per i centimetri di altezza della nostra chiusura perché questa sarà la parte che dovrà piegare quindi questa parte di borsa o in questo caso di clutch rimarrà rigida mentre la parte successiva quella che andremo a lavorare adesso rimarrà morbida nel caso di questa clutch con questa chiusura rimane a metà mentre nel caso della nostra borsa grande scusate nell'inquadratura non ci sta è veramente pochissimo mi sembra che sia 8 cm l'altezza della chiusura poi dipende da che chiusura state usando se usate la mia stessa i centimetri sono quelli se ne usate un'altra io vi spiego il procedimento di questa borsa per poterla lavorare su qualsiasi chiusura quindi se a voi non piace la mia chiusura potete tranquillamente usare un'altra ma con lo stesso modello di borsa quindi io vi spiego il procedimento così che voi possiate adattarlo a qualsiasi vostro dispositivo quindi che sia questo o un altro quindi ora vado avanti a girare a spirale quindi la lavorazione a spirale per l'altezza diciamo della della nostra chiusura questa perché poi dovrà piegare e fare il soffietto mentre in questo momento non può piegare perché c'è la rete e non è più flessibile quindi vado avanti per l'altezza di questo penso siano 4 cm e ci rivediamo per attaccare la nostra chiusura arrivata qualche giro dalla fine io faccio la stessa cosa fatta prima per il cambio colore quindi entro con due punti di maglia bassissima sfilo il filo taglio vado a sfilarlo poi lo diciamo coprirò con la la lavorazione quindi andrò a nasconderlo entro due punti prima qui prendo il mio filo vediamo quale devo tirare ecco qua prendo il mio filo lo porto all'esterno faccio la catenella ecco in questo modo adesso vado a nascondere le codine e faccio un giro di maglia bassa e un giro di maglia bassa in costa quindi per finire quindi intanto vado a fare questo mio giro di maglia bassa vedete andiamo a nascondere praticamente lo scalino del cambio colore perché lavorando a spirale a volte rimane lo scalino allora chiudete bene il punto vedete che qua a me ha preso male il nodino quindi chiudete bene il punto in modo da non farlo in modo che non si veda ecco il cambio colore quindi entriamo nella catenella successiva vado a fare la mia maglia bassa in quella dopo qua vado a fare la maglia bassa vedete così non si vede lo scalino abbiamo fatto il cambio colore ma anche se abbiamo la lavorazione a spirale non si vede lo scalino quindi vado a tirare dentro le mie codine nella lavorazione mi raccomando così non dobbiamo poi nasconderle vado a fare tutto questo giro di maglia bassa ovviamente col colore a contrasto allora in questo caso e solo in questo caso perché andiamo a fare l'ultimo giro ho concluso con una maglia bassissima sulla maglia stessa vedete che non si nota tanto il gradino del cambio colore perché comunque abbiamo cambiato tornando indietro un pezzettino quindi si vede ma non fa lo scalino fa una leggera discesina e quindi non è fastidioso all'occhio non si nota ora nella borsa grande io ho fatto tre giri di nero prima di fare il giro conclusivo qui ne faccio solo uno perché la chiusura della clutch quindi del nostro portamonete è più bassa della chiusura della borsa siccome io voglio che si intraveda la riga nera a chiusura della borsa qui ne faccio solo una perché è molto sottile mentre siccome è alta mezzo centimetro quella della borsa ho fatto in modo che uscisse proprio solo una delle tre quattro righe di nero che ho fatto quindi che si intravedesse solo vedete così questo leggero bordino c'è quindi lo spessore della chiusura più un leggero bordino questi sono quattro giri mentre io qui ne sto facendo uno ed ora andrò a fare tutto un giro vedete siccome abbiamo chiuso con la maglia bassissima mi alzo e vado a fare a maglia bassissima tutto un giro preso in costa retro quindi ora andrò a farmi tutto questo giro in costa retro ecco qua di maglia bassissima a conclusione di questo giro poi avremo finito la nostra clutch o la nostra borsa faccio questo giro e ci ritroviamo ecco qua mi sono unita con una maglia bassissima sulla prima vado a sfilare lascio un po' lungo il filo così che io poi possa nasconderlo agevolmente e la nostra clutch è finita vedete che questa parte è morbida questa parte invece vedete che non piega perché è rigida e così anche la nostra borsa vedete mi raccomando poi andate a dare un puntino sotto col filo di nylon per bloccare la rete se volete io sinceramente questo non lo bloccherò poi in seguito andrà foderato e la rete non si vedrà ora prendete la vostra chiusura che nel mio caso in questo momento è piccola ma se è quella della vostra borsa è molto più grande vado a posizionarla in questo modo in questo caso è giusta nel caso della mia borsa invece qui dovrete tirare lateralmente al centro dovete tirare un pezzo di tessuto per fare un piccolo soffietto posizionare bene la borsa incastrata diciamo nella nostra chiusura dopodiché andiamo a cucirla in questo modo allora innanzitutto dovete assicurarvi che la parte centrale la chiusura la vite che c'è centrale della chiusura sia al centro del lato corto dopodiché iniziamo a cucire in questo modo eccoci qua allora vi faccio vedere proprio da questo parto da questo punto perché c'era un'amica che non aveva capito bene come si faceva il centro quindi adesso glielo faccio vedere subito praticamente cosa facciamo lasciamo la chiusura aperta in questo caso è grande giusta vi ricordo mentre nel caso della borsa dovete fare un leggero soffietto ma senza cucire per passare da un lato all'altro della chiusura entrate e uscite semplicemente dal filato scusate dal tessuto in questo modo ecco qua io adesso lo faccio subito così vado anche a bloccare quella che è il mio filo ecco qua entro ed esco in questo modo fino a passare da una parte all'altra della chiusura e poi rimarrà ovviamente la vostra borsa col soffietto la mia clutch non avrà il soffietto perché ovviamente è della misura giusta quindi adesso io rientro e riesco fino a superare la metà che non va cucita ovviamente infilo ecco qua esco per l'ultima volta vado a posizionare al centro mi raccomando la mia pochettina ed ora posso entrare allora non sono al centro quindi faccio un altro punto avanti e indietro per posizionarmi ecco nel punto giusto qua ecco ora come fatto per i portamonete cuciamo quindi entriamo nel foro prendendo ecco qua forse ho scelto un ago troppo grosso adesso vediamo comunque entro in questo modo vediamo se ci passa perché mi sa che ho scelto un ago troppo grosso eh sì allora aspettate un attimo che cambio l'ago sono gli gli intoppi del mestiere eccoci qua ho cambiato l'ago non ho voluto tagliare il pezzo di registrazione perché secondo me anche un errore può essere utile per insomma far capire che ci possono essere degli intoppi allora dicevo entriamo nel primo foro in questo modo e ne riusciamo tirando su sempre la maglia sotto vedete io prendo sulla maglia e rientro nello stesso foro ovviamente mi si incastrerà nei manici quindi vado avanti così per tutta la mia borsa quindi entro nel foro successivo ci entro da prima da fuori verso dentro da dopo prendendo il tessuto da dentro verso fuori e naturalmente la pallina continua ad incastrarsi quindi vado per tutto il perimetro della mia borsa ricordate che nella borsa avete il pezzettino di soffietto cosa che nella clutch piccolina non ho perché ovviamente se no non veniva bene questa qua deve essere precisa mentre la borsa io volevo che avesse un po' di tessuto in più nei laterali ecco qua quindi adesso io procedo a cucire in solitaria perché davanti alla videocamera mi viene difficile quando arrivo da questo lato vi faccio vedere ancora il pezzettino così se non è chiaro come si cuce al centro ve lo ve lo chiarisco come vedete sono giunta nuovamente qui nel mezzo della mia chiusura quindi cosa faccio entro ed esco dal tessuto fino ad arrivare al prossimo buco anche se avete il soffietto se entrate e uscite vicini diciamo non avete nessun fastidio quindi il primo punto dopo questo passaggio lo faccio passare da dentro in questo modo aspettate che ho preso la pallina ecco qui la piccola ecco qui entro nel punto successivo e rientro nel punto precedente io passo sempre due volte perché così non devo farmi due giri se invece voi volete fare più velocemente il giro e poi farne un secondo entrate e uscite tranquillamente una sola volta dal foro io come sapete preferisco fare subito il percorso quindi e il primo punto lo faccio uscendo il secondo torno indietro di uno entro oppure viceversa prendo sulla maglia e riesco nel senso decidete voi ma vi consiglio sempre di fare due punti per ogni foro quindi entrate uno in entrata e uno in uscita prendendo un po' più di tessuto in modo da tirar bene sotto la nostra chiusura come raccomandazione anche mi raccomando gli angoli gli angoli rinforzateli un pochino perché è dove tira di più quindi state bene attenti che aderisca l'angolo bene alla chiusura finisco la cucitura da sola perché davanti alla videocamera mi diventa un po' difficile e vi faccio vedere il risultato finale ecco qua la mia piccola clutch finita vedete è proprio molto molto graziosa non ha bisogno di imbottitura sta in piedi da sola è molto molto come si dice è rigida perché abbiamo fatto la prima parte correte e la seconda senza io ho ancora un filo da nascondere ma successivamente la dovrò foderare quindi avrò modo di nascondere tutti i fili vedete veramente graziosa spero che la troviate anche facile da fare perché obiettivamente ci sono tanti passaggi ma sono tutti molto semplici però vedete abbiamo il nostro bel coordinato borsa e clutch che potete usare come borsellino all'interno della vostra grande borsa io spero che questo tutorial sia stato utile spero che sia stato esaustivo anche in tutti i suoi passaggi quindi come si attacca la rete sul fondo come si attacca la rete lateralmente come si fa il cambio colore insomma spero che sia stato di vostro gradimento se vi è piaciuto mettete tanti pollicini in su venite a trovarmi sul gruppo facebook creando con luci oppure su instagram sempre creando con luci mi mando un grosso abbraccio e un grande bacio al prossimo video tutorial ciao ciao da luci a presto